ronfranco gualtieri presidente della fondazione della casa dei risparmi di ravela roberto lunghi il moderno argomento se non proprio arduo di quelli almeno da toccare con tutte le precauzioni niente con la sua figura il suo lascito che possa dirsi di ordinaria amministrazione valga intanto una precisazione se inteso adottare il termine moderno anche per rispettare alla lettera l'indicazione spiccia magari discutibile dello stesso luogo l'età moderna comincia dopo la metà del secolo scorso alla contemporanea con il cubismo e il futurismo quanto poi l'interesse che per un simile argomento possa dimostrare questa nostra attualità distrata da tutt'altra i peccati banti sirene non è difficile ammettere che si possa nutrire almeno qualche dubbio sempre che si tengano per ferme le coordinate culturali chiamiamole così che hanno informato i passi della critica dell'arte contemporanea da mezzo secolo ad oggi ma questo potrebbe anche essere uno dei motivi che confortano a ritenere almeno non pretestuosa questa mostra provarsi a chiedere alle ultime generazioni se abbiano ottenuto gli scritti lunghiani tra le letture importanti del loro studio soccorso non bastassero le linee guida dell'ufficialità artistica ampiamente avvalorata da quanto è accaduto in questi ultimi decenni in un intreccio sempre più evidente persino dichiarato tra arte spettacolo e business qui la critica sembra non sapersi sottrarre ci si trova pur sempre un altro ostacolo da superare quello del rapporto fra lunghi appunto e l'arte contemporanea un rapporto che si è spesso liquidato fra lunghi fra luoghi comuni e insufficiente informazione come difficile ambivo contraddittorio persino imbarazzante per chi si limitasse a prendere per inoppugnabile decisivi certi episodi eclatanti e sempre biasimati entro un esercizio critico di intaffato occasionale è anzi protratto per circa mezzo secolo dai precocissimi esordi sull'iniziale del secco del secondo decennio del novecento sino agli anni sessanta quando davvero per lo studioso giunge il tempo di un comprensibile pensosa di alle armi la guerra ormai era di tutt'altro genere così come il senso l'oggetto alla finalità del contendere non più riconoscibili a una misura lunghiana e non piacevolmente decifrabili da soppur farmi